Come fare trading online con un piccolo capitale? Perché qui facciamo sempre vedere che Max fa il giro del mondo, c'è i milioni, ha fatto il trading, eccetera. Ma se io parto dall'inizio e magari non ho neanche messo via tutti questi grandi risparmi, come cavolo posso fare a iniziare a fare sto mestiere? Cioè devo avere un milione per farlo? Certo che no, io ho iniziato con 10.000 euro. Ma se io non ho manco questi 10.000 euro perché ho appena iniziato, sono giovane, non ho risparmiato, preferisco andare alle Maldive in discoteca e c'ho via qualche 100 euro. Cosa mi conviene fare? Questo è lo scopo di questo video. Tema numero uno, se tu impari una professione, è ovvio che quando poi risolverai il problema della capitalizzazione, dell'avere i soldi, dell'avere più soldi, sarai pronto. Se invece oggi tu te ne freghi di come si fa, tra un anno vinci la lotteria, erediti una cifra, guadagni, fai un lavoro di più, c'hai via i soldi, perché c'è chi ha tanti soldi via, non è in grado di investire, non investe o li perde perché li investe male. A questo punto tu non sarai pronto e dovrai perdere tempo per prepararti o perdere soldi per capire che dovevi prepararti, per cui puoi farlo da subito. Non solo. Le N strade per cui i soldi ti arrivano sono infinite, perché Steve Jobs iniziò a fare seriamente con la Apple ricevendo 250 mila dollari dal CEO importante e famoso di un'altra azienda a cui vendette il 30% della Apple. Quindi lo stesso Steve Jobs non fece decollare la Apple da solo con le proprie risorse finanziarie, quindi non ti devi vergognare se in saccoccia hai tanto e hai poco. La tua competenza poi risolverà il problema e non stiamo a parlarne in questo video. Ora, la cosa importante è che tu potresti iniziare a lavorare anche con pochi soldi. Quello che vedremo tra pochissimo è il risultato addirittura di una storia che ha del clamoroso e fa sorridere. Perché una persona di cui per ora diciamo il peccato e non il peccatore, che cosa ha fatto? Ha aperto uno di quegli account di trading dove il broker ti dà un bonus. Si usava tantissimo anni fa, era pieno. Dopodiché alcune regolamentazioni come la Mifida hanno proibito i bonus, per cui lo fanno alcuni broker che non sono più nell'ambiente Mifide Europa. Però questo è un caso, giusto per citarvi anche la legge. Che cosa accade? è che questa persona apre un account con questo broker, riceve un bonus di 25 euro o 25 dollari. Si mette a operare. Allora, tra le operatività che può scegliere, sceglie di fare il day trading. Per qualcuno è più facile, è più difficile. Io semplicemente dico, è fatto per te, se per esempio tu non vuoi andare a letto la notte pensando alle posizioni aperte. Vuoi sapere, profitto, operita, chiuso tutto, non voglio sapere niente, perché non voglio avere il pensiero. La prima distinzione per capire se è fatto per te o no di solito è questa. L'altra è che, siccome le operazioni le apri e chiudi all'interno della giornata, ecco perché day trading, è normale che il rischio sulla posizione è più piccolo e quindi uno tende a mettere in porti un po' più grandi, quindi anche i conti più piccoli sono un po' più agevolati. Per contro, stare a operare davanti al monitor è un po' più difficile perché ci sono più pulsioni psicologiche, ma non è questo il tema del video. Torniamo al racconto del nostro amico. Il nostro amico con 25 euro che cosa fa? Riceve questo bonus, quindi non le tira manco fuori di tasca e inizia a operare. Opera, opera, fa day trading, day trading, day trading e a un certo punto sale la cifra, diventa 50 euro. Dice, vabbè, 25 euro, ci mangio una pizza, forse in Italia, perché in Svizzera è già da un bel po' che costa 25 euro una margherita. Poi c'è stata l'inflazione anche in Italia e in tutto il mondo, forse in Italia oggi non lo so quanto costa una pizza. Oh, da 50 euro va 100. Eh, allora, sono sempre pochini perché con 75 euro non ci salta fuori un bel carrello di spesa, però da 25 euro a 75 euro, quante volte è? È un per x. Insomma, va avanti, va avanti, va avanti, ecco qui il risultato dove è arrivato. Ha fatto il 1000%, cioè vuol dire che ha moltiplicato per 10 il suo importo totale, quindi da 25 è andato a 250. A questo punto potevano essere 1000 e andava a 10.000, ok? È facile, è difficile, non è il tema di questo video. Il punto è, possiamo operare anche con una cifra piccola? Sì. Possiamo rischiare un po' di più perché la cifra è piccola? Sì, sempre con le dovute attenzioni, perché se io tratto una cifra piccola, tanto perché è piccola, come la fish di un casino, perderò quella piccola cifra. Quindi io raccomando sempre, tratta i tuoi 1000 euro, per dire una cifra qualunque, come se fossero il mio milione di euro, o come se fosse un milione di euro. Perché? Perché devi avere rispetto di quel danaro, devi tradarlo come si deve tradare, altrimenti, ah, siccome sono pochi, esagero, gli tiro il collo, spero diventino tanti rapidamente, altrimenti tanto per 100-1000 euro non mi cambia la vita. No, con questo atteggiamento non andrai da nessuna parte. La persona di cui ti parlo lo ha fatto col massimo zelo e con la massima attenzione. Non ha detto ci provo. Infatti, come puoi vedere, dal track record, ci ha messo un pochino di mesi a fare questo. Dice, ma non ne vale la pena? Beh, dipende. Se da 1000 andavano a 10.000, se va a 1000, poi da 1000 va a 10.000, chiaramente per lui è stata anche una particolare sfida, no? Ricevere i 25 gratis, non è che non hai i 25 euro in tasca, no? Infatti ve la racconto anche per quello che rappresenta dal punto di vista della storia. Ha fatto questo day trading e da questo day trading ha ottenuto tutto. Probabilmente ti stai chiedendo come è fatto day trading, probabilmente ti stai chiedendo chi è questa persona e probabilmente ti stai chiedendo perché te ne sto parlando, ma non avrai le risposte da questo video.